Ben trovati a gentili telespettatori ad una nuova edizione del Tg6 dall'Aquila in apertura. Parliamo della visita oggi nel capoluogo di regione del presidente nazionale dell'Inps Tito Boeri che ha partecipato all'inaugurazione dell'inizio dei lavori della ristrutturazione della sede regionale Inps in centro storico all'Aquila. Vediamo. Il sistema pensionistico si regge sull'equità. Chi oggi lavora e paga le pensioni alla vecchia generazione lo fa nell'aspettativa che quando verrà il suo turno sia trattato nello stesso modo. Su questa consapevolezza ribadita dal presidente nazionale Tito Boeri si basa anche l'operazione Trasparenza rappresentata al bilancio sociale dell'Inps Abruzzo, illustrato oggi a Palazzo Silone all'Aquila. Nocciolando i numeri si scopre che ammontano a 4,6 miliardi le prestazioni erogate nel 2014 a 427 mila pensionati. E' anche però che solo l'11% dei pensionati percepisce a segni superiori a 800 euro, mentre l'importo medio delle pensioni di anzianità si attesta ai 600 euro, ancora meno per le donne. L'equità è data anche da quanto un lavoratore ha versato, sottolineo il presidente regionale Inps Enrico Paone, e dunque andrebbero sanate alcune iniquità, ad esempio i ricchi vitalizi dei parlamentari e degli ex consiglieri regionali. Ed è proprio in nome di una maggiore equità che Boeri e anche all'Aquila rilancia la proposta del reddito minimo garantito da 600 euro mensili per gli over 55. Milioni di precari avranno una pensione? Noi abbiamo dato la possibilità a tutti i giovani, ai lavoratori precari, perché sono soprattutto giovani che sono lavoratori precari, di poter simulare la loro pensione futura. Quindi la risposta ce l'hanno loro guardando la loro situazione individuale. È deprimente una risposta? Non è una situazione così deprimente, certamente per molti la situazione è difficile, però anche queste persone che hanno poi visto che la pensione sarà bassa, che hanno dovuto rivedere a ribasso le loro aspettative, ci hanno ringraziato per il servizio offerto. E gli interventi che noi abbiamo prospettato e proposto vanno proprio nella direzione di aiutare i giovani, perché facilitano l'ingresso nel mercato del lavoro per i giovani, rendono la loro situazione in futuro, la proteggono perché creano un reddito minimo dai 55 anni in su e prima o poi toccherà anche loro arrivare a quella, anche se è lontana come prospettiva per il momento, però certamente il fatto che ci sia questa protezione a un certo punto servirà ancora loro. Guardiamo i giovani perché abbassiamo il debito implicito del sistema pensionistico. Questo è qualcosa che guarda tantissimo ai giovani perché vorrà dire per loro pagare meno tasse in futuro per sostenere le pensioni di altri. Il problema è una cassa integrazione, anche in Abruzzo c'è un'emergenza. La situazione occupazionale permane difficile dopo una crisi così lunga. Ci sono stati dei segnali di miglioramento soprattutto sulla qualità nella creazione di posti di lavoro, come abbiamo certificato nel nostro osservatorio sul precariato. Però dal punto di vista della creazione netta di posti di lavoro, chiaramente fin quando la ripresa non diventa più solida, più forte, chiaramente i dati sull'occupazione rimangono critici. E in occasione dell'arrivo di Boeri è stato anche presentato all'Aquila il bilancio sociale IMSS. Ammonta 4 miliardi e mezzo lo stanziamento per le pensioni in Abruzzo e proprio dal capoluogo di regione il presidente Boeri ha rilanciato l'idea del reddito minimo per gli over 55. Il servizio è di Filippo Tronca. Il sistema pensionistico si regge sull'equità. Chi oggi lavora e paga le pensioni alla vecchia generazione lo fa nell'aspettativa che quando verrà il suo turno sia trattato nello stesso modo. Su questa consapevolezza ribadita dal presidente nazionale Tito Boeri si basa anche l'operazione Trasparenza rappresentata al bilancio sociale dell'IMSS Abruzzo, illustrato oggi a Palazzo Silone all'Aquila. Nocciolando i numeri si scopre che ammontano a 4,6 miliardi le prestazioni erogate nel 2014 a 427 mila pensionati. E' anche però che solo l'11% dei pensionati percepisce a segni superiori a 800 euro, mentre l'importo medio delle pensioni di anzianità si attesta ai 600 euro, ancor meno per le donne. L'equità è data anche da quanto un lavoratore ha versato, sottolineo il presidente regionale IMSS Enrico Paone, e dunque andrebbero sanate alcune iniquità, ad esempio i ricchi vitalizi dei parlamentari e degli ex consiglieri regionali. Ed è proprio in nome di una maggiore equità che Boeri, anche all'Aquila, rilancia la proposta del reddito minimo garantito, da 600 euro mensili per gli over 55. Milioni di precari avranno una pensione? Noi abbiamo dato la possibilità a tutti i giovani, ai lavoratori precari, perché sono soprattutto giovani che sono lavoratori precari, di poter simulare la loro pensione futura. Quindi la risposta ce l'hanno loro guardando la loro situazione individuale. È deprimente una risposta? Non è una situazione così deprimente, certamente per molti la situazione è difficile, però anche queste persone che hanno poi visto che la pensione sarà bassa, che hanno dovuto rivedere a ribasso le loro aspettative, ci hanno ringraziato per il servizio offerto. E gli interventi che noi abbiamo prospettato e proposto vanno proprio nella direzione di aiutare i giovani, perché facilitano l'ingresso nel mercato del lavoro per i giovani, rendono la loro situazione in futuro, la proteggono perché creano un reddito minimo dai 55 anni in su. Rimaniamo a parlare di lavoro, perché la Filcamps CGL provinciale ha revocato lo sciopero indetto per il prossimo 23 novembre presso i depositi TUA nella provincia dell'Aquila, a causa della riduzione del valore degli scatti di anzianità nelle buste paga dei dipendenti della società da MSRL, alla quale sono stati appaltati i servizi presso i depositi della TUA, la nuova società di trasporto pubblico regionale, che prima venivano invece forniti dalla società Sistema. La Filcamps da parte sua ha preso atto dei rilievi comunicati al sindacato dalla Commissione di Garanzia riguardo le modalità di indizione dello sciopero, del quale tuttavia però restano, sottolinea la Filcamps CGL, valide le motivazioni e le cause dello sciopero, che sarà dunque nuovamente proclamato e dandone una tempestiva comunicazione ai vari organi preposti. E cambiamo argomento e passiamo alla cronaca. Ieri pomeriggio un terribile incidente c'è stato sulla statale 17, vittime sono rimaste due donne, madre e figlia, uccise nel rogo della loro auto. Vediamo. Il giorno dopo ancora ci sono i segni sull'asfalto del tragico incidente costato la vita a una madre e sua figlia. Concetta Maria della Valle, sessantenne e santa medaglia di 24 anni. Le donne viaggiavano a bordo della Hyundai, l'una davanti e l'altra nei sedili posteriori. Entrambe sono morte nel rogo della loro auto. Percorrevano il tratto di strada della statale 17 tra Castelnuovo e Barisciano. L'auto su cui viaggiavano le due donne, che per motivi ancora in corso di accertamento si è scontrata frontalmente con un'altra che viaggiava in senso opposto, era guidata dal marito della donna e padre della ragazza, un 57enne, che dopo l'impatto frontale è riuscito ad abbandonare la macchina prima che prendesse fuoco. Per le due donne invece non c'è stato nulla da fare, sono morte carbonizzate. Le salme sono state poi portate ieri sera all'ospedale San Salvatore dell'Aquila, dove è stato ricoverato sia il padre, residente con la famiglia Rapino in provincia di Chieti, che il conducente dell'altra auto. Entrambi gli uomini non sono gravi. Sulla dinamica dell'incidente sta indagando la polstrada. Sul posto dell'incidente sono intervenuti gli uomini dell'ANAS, della Polizia Stradale, il Corpo Forestale dello Stato e i Vigili del Fuoco, per le attività di rimozione dei veicoli incidentati e della pulizia del piano viabile, per ripristinare la circolazione che è stata interrotta per lunghe ore sulla strada statale 17, quel tratto di strada che ha metuto ancora altre vittime. La velocità agevolata dal rettilineo e l'attraversamento di animali selvatici sono tra le maggiori cause di incidenti su quel tratto di strada ormai maledetta. Cambiamo argomento e passiamo al Comune dell'Aquila. Un nuovo amministratore unico, infatti, per il centro turistico del Gran Sasso, l'azienda del Comune dell'Aquila che gestisce gli impianti sciistici di Campo Imperatore. Si tratta di Fulvio Vincenzo Giuliani, che subentra al dimissionario Umberto Biomonte Zobel. Nominato dal sindaco del capoluogo Massimo Cialente, Giuliani è un esperto consulente d'azienda specializzato in piani di sviluppo a livello europeo, già dirigente nel gruppo della Telecom. Alle amministrative, ricordiamo, del 2012 Giuliani era candidato come consigliere nella lista del Partito Democratico a sostegno proprio del sindaco Cialente. In quell'occasione ha raccolto tante preferenze, non venendo però eletto. Ringrazio il sindaco per la fiducia e la stima che mi ha accordato. Sono state le sue prime parole, consapevole del difficile compito che andrò ad affrontare e che comunque mi vedrà impegnato da subito ad acquisire tutte le informazioni possibili a comporre un quadro omogeneo della situazione del centro turistico del Gran Sasso, tale da poter iniziare immediatamente la programmazione del lavoro. E rimaniamo sempre al comune dell'Aquila perché il sindaco Massimo Cialente lancia l'allarme sui sottoservizi. Molte case e negozi sono stati infatti ricostruiti ma mancano i servizi di luce e di gas, per questo restano ancora vuoti. Il servizio è di Filippo Tronca, vediamo. Se le cru svettano nel cielo aquilano moltiplicandosi di numero rendendo evidente che la ricostruzione del centro storico procede finalmente a ritmi sostenuti, c'è una città invisibile e sotterranea dove invece la ricostruzione deve ancora cominciare. Quella che deve dotare di sottoservizi, ovvero fogne, tubature dell'acqua e del gas, cavi della corrente elettrica, edifici pronti e chiavi in mano. Già ora denuncia il sindaco Massimo Cialente molti negozi non possono riaprire, molti, troppi residenti non possono tornare a casa loro e il problema non viene affrontato ancora con l'urgenza che merita, visto che i lavori sono ancora al palo e dove invece si sta realizzando il tunnel intelligente su via Sallustio, i lavori sono frenati dalle continue scoperte di reperti archeologici. Contemporaneamente noi dobbiamo dare i sottoservizi a quegli edifici che all'inizio in macchia di lopardo sono stati realizzati con il meccanismo della sovrintendenza, ma adesso bene o male li stiamo rimettendo a posto. Per ruota è una soluzione che io ho consigliato e che è stata accolta che quella è inutile che aspettiamo di fare i sottoservizi, se no arriviamo fra un anno in alcune strade, ma per ora si mettono dei tubi di plastica coibentati che non generano, magari a 10 cm sottoterra e si porta. Il problema è il gas, perché il gas è come le saldi fuori del tunnel, perché non ci può stare insieme, però adesso c'è il problema e si devono coordinare il progetto di sottoservizio con quello del gas. Il tutto poi deve passare al Comune dell'Aquila che riasce l'autorizzazione. insomma c'è un cortocircuito, sono mesi. E in concreto questo cosa significa? Ci sono delle abitazioni pronte, però non sono vuote. Abitazioni pronte e negozi pronti, sono anche pronti dei negozi. L'altro giorno qua, il tragitto dalla regione alla villa, al mio ufficio a Quattro Cantoni, sono stato fermato a 6 persone con questo problema, me ne ho incontrate 10. Quindi adesso convocheremo un'altra riunione, metterò ancora intorno al tavolo a Gran Sassuacqua, il Comune dell'Aquila e l'Enel gas, però insomma questa è una situazione che si deve trovare una soluzione. È chiaro che noi ci dovevamo percorrere strade nuove, cose mai successe prime, però non si può neanche fare che non si trova una soluzione. Con il prossimo servizio ci spostiamo ad Avezzano, perché anche in Abruzzo si sono svolte numerose manifestazioni di solidarietà dopo i tragici fatti di Parigi. Ad Avezzano in particolare, nella serata di martedì, si è svolta una fiaccolata a cui hanno preso parte numerosi rappresentanti di tutte le religioni, ma anche moltissimi cittadini. Vediamo. Una fiaccolata per ricordare le vittime degli attentati di venerdì scorso a Parigi, si è tenuta lungo le strade di Avezzano nella serata di martedì. Tra le centinaia di persone che hanno preso parte al corteo erano presenti i sindaci dei comuni della provincia dell'Aquila, alcuni consiglieri regionali, i rappresentanti della comunità cristiana, ortodossa ed islamica e moltissimi cittadini. Una manifestazione spontanea ha dichiarato nel corso del suo intervento il sindaco di Avezzano, Giovanni di Pangrazio, contro tutti i fatti accaduti tra 15 anni a questa parte che mira a combattere il terrorismo con la pace e con il silenzio. L'imam della comunità islamica, Hamid, ha dichiarato «Il nostro credo non ci permette nemmeno di uccidere una formica, siamo rimasti molto male per quello che è accaduto a Parigi, ma ciò che è accaduto è solo politica, non è islam». Alla manifestazione ha preso parte anche il vescovo dei Marsi, Pietro Santoro, il quale ha affermato «Sono qui per unirmi ai rappresentanti delle altre religioni, ai rappresentanti istituzionali e a tutti i cittadini. Stiamo vivendo un momento tragico e senza giudicare la mia fede e quella degli altri, credo solo che non si possa uccidere in nome di Dio». Domani, 19 novembre, alle ore 10, nell'auditorium del Parco, il Centro Territoriale per le Nuove Tecnologie e Disabilità della provincia dell'Aquila, con sede presso la scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri, presenterà lo spettacolo «Ora mi vedi», una performance teatrale sulle tematiche del disturbo dello spettro autistico curata dalla Compagnia Laboratorio Minimo Teatro di Ascoli Piceno. Al termine della rappresentazione seguirà un dibattito sul tema moderato dalla dirigente scolastica Antonella Conio e il dibattito servirà ad illustrare anche servizi di consulenza, informazione e formazione svolti dal centro e rivolti ai genitori, ma anche agli alunni e ai docenti di tutta la provincia. Bene, era questa la nostra ultima notizia. A me non rimane che ringraziarvi della consueta attenzione e invitarvi a rimanere sintonizzati sull'emittente TV6 con tutti i suoi programmi. Grazie ancora, buon proseguimento. Grazie a tutti.